a rivolta Non viva Ah vada a fare la stage Vada a stage 9 Non mi ha fatto un successo Puttana ragazzi, mi sto caricando Grazie a tutti. Siamo usciti, non fa spesco. 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 Siamo usciti. Mi mancavano tre numeri. Mi mancavano tre numeri, ricominciamo. La camicia è un guardabile, ragazzi, però, eh. La camicia è un guardabile. Siamo usciti, non fa spesco. Siamo usciti, non fa spesco. La camicia è un guardabile. la camicia è un guardabile. la camicia è un guardabile.